Però è una persona a me carissima Sì Che t'ha detto? Non a che posso dire Ma io però dopo mi devi dire chi è questa persona Dopo me la dici più al di fuori Eh no perché adesso mi stai mettendo insieme E come faccio a omettela? Non devi dire chi Devi dire che cosa ti ha detto Non devi dire chi te l'ha detto La fidanzata di uno La fidanzata addirittura? Sono fidanzata? Va bene Maria io posso giurare sul mio figlio Che io non sono né fidanzata E non mi frequento con nessuno Penso più di questo e non posso fare Però se lo dico qua in 20 secondi Si sa chi chi mi ha detto E non va bene Però è certo Te l'avrà detto l'amico suo Ma non c'entra niente lui Ma che c'entra? Veronica non ha capito che Andrea l'ha saputo dopo E Andrea l'ha raccontato a quest'amico Ma fa armate devo dire una cosa Tu avevi ragione forse Ho detto perché Perché Andrea è venuto a sapere la stessa cosa tua Però gli è stata detta da una persona Molto intima a lui E non vuole dire chi è la persona che gli ha detto Però ci crede perché chi gliel'ha detto Maria io vorrei dire una cosa A favore di Veronica Voglio capire chi è quell'uomo Che fa venire la sua compagna In questa trasmissione qua Non è il fidanzato Non è il fidanzato Fino adesso che dite che è il fidanzato No si utilizza il termine fidanzato Ma non è il fidanzato È un amico Allora è un amico No lui ha detto che è fidanzato No vabbè non ce l'ha Voglio capire chi è l'uomo Che permette di venire la sua compagna qua Magari ecco qualcuno che già ce l'ha di lavorare lì fuori Ciao 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 Ciao